Musica La Camera di Commercio di Arezzo e Metropoli, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, con il contributo di Union Camere Nazionale, organizza la seconda edizione dell'Incoming Italia Chiocciola Casa 2, rivolto alle aziende italiane del settore illuminazione e tessile per la casa, arredo bagno, complemento d'arredo artistico e oggettivistica di design e mobili. L'evento si svolgerà nei giorni 18 e 19 giugno a Firenze e vedrà la presenza di operatori cinesi e giapponesi dell'arredamento e del complemento d'arredo. Per ulteriori informazioni, dottor Francesco Bigazzi. La Camera di Commercio di Arezzo, in collaborazione con Metropoli, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, con il contributo di Union Camere Nazionale, organizza per il prossimo 28 giugno un incontro tra le aziende a retina del settore edilizia ed operatori selezionati di Marocco, Tunisia ed Egitto. Le aziende interessate a partecipare all'incontro, che avrà luogo a Firenze, dovranno ritirare la modulistica scaricandola dal sito www.ar.camcom.it entro il prossimo 4 maggio. Anche per il 2012, la Camera di Commercio di Arezzo organizza il Premio Fedeltà al Lavoro, che assegna riconoscimenti e premi alle imprese che si sono particolarmente distinte nel settore del lavoro e del progresso economico. Saranno assegnati premi per 5 categorie, impegno imprenditoriale, internazionalizzazione, innovazione, imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile. Ulteriori informazioni e la necessaria documentazione per la partecipazione al premio, che scade l'11 maggio, sono disponibili sul sito camerale. Da lunedì 7 maggio, la Camera di Commercio di Arezzo attiverà la procedura per la richiesta telematica dei certificati di origine delle merci attraverso il servizio WebCo, messo gratuitamente a disposizione degli utenti. Il servizio previa autenticazione consentirà di richiedere via internet il certificato di origine mediante apposizione di firma digitale del richiedente sul modulo elettronico, generato automaticamente da WebCo. Il certificato potrà essere successivamente ritirato presso lo sportello documenti e certificati per l'estero, evitando l'attesa per l'istruttoria, per i controlli e per la posizione dei visti.